è finalmente arrivato il momento di accendere il natale ciao a tutti e benvenuti da ombretta su arte per te oggi accendiamo il natale ed esattamente facciamo insieme l'albero di natale della mia nuova casetta qui non ho tutte le mie belle decorazioni non ho tutto il mio ambaradan per costruire il mio albero però non ho voluto rinunciare allo spirito del natale e allora ho pensato di farlo con creatività non comprando altra plastica, altra roba ma usando quello che avevo i fogli del piano da lavoro di arte per te e tanta creatività prima di spostarci sul piano da lavoro vi ricordo però che è importante mettere cose belle sotto l'albero e allora vi suggerisco i miei due libri il ricettario dell'arte un libro fatto per chi ama l'arte chi ama pasticciare chi ama crearsi da solo i materiali per la creatività in maniera però professionale dei ben materiali da poter usare sempre e nel tempo è il grande libro del colore il libro in cui ho raccolto tutti i segreti che conosco sul colore e allora vi aspetto in tutte le librerie mi raccomando mettetemi sotto i vostri alberi adesso spostiamoci di là e andiamo a creare l'albero di natale di arte per te ed ecco l'occorrente per il nostro albero di natale colla caldo e relative stecche una squadretta uno stecco da spiedo taglia balza dello scotch forbici una bomboletta dorata rame quello che avete per abbenire delle luci io ho scelto queste che sono è una catenella di foglioline che ha in sé delle luci a led e con questa adornerò tutto il mio albero quindi il mio albero sarà color cartone e oro e anche la bomboletta anche se voi in questo momento la vedete rame la userò color oro del cartone da scatola quello un po' spesso per intenderci quello degli scatoloni e della carta pacchi questa qui questa potete anche quella leggera insomma potete anche sostituirla con la carta di giornale o della vecchia carta da musica quello che trovate viene bene in tutti i modi iniziamo subito come prima cosa prendiamo una striscia di cartoncino non so quanto sia lunga non mi interessa la taglio a metà faccio che sia alta una quindicina di centimetri tutte le misure saranno super approssimative perché non dobbiamo fare l'albero di piazza san pietro ma un modesto albero di natale che probabilmente alla fine della stagione finirà anche in pattumiera e voilà adesso facciamo da ognuna di queste strisce tanti rettangolini vi faccio vedere che siano di circa undici centimetri così io prendo la squadretta e assolutamente ripeto assolutamente ad occhio tiro su le linee ora piego ecco in prossimità dei miei tagli così i tagli non hanno separato tutto no e allora piego e decido quanto largo voglio fare il mio alberello così è un po' troppo piccino lo voglio fare almeno così quindi mi occorrono almeno altre due barra tre sezioni da undici centimetri andiamole a tagliare una volta tagliati tutti i miei segmenti li piego tutti e li unisco con dello scotch faccio solo da un lato perché voglio che dall'altro si pieghi quindi adesso piego tutte le mie pieghe così una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci sono dieci segmenti da undici centimetri l'altezza è diversa ma non ci interessa a me questo serve solo come base su cui poggiare poi la struttura del mio albero di natale è la circonferenza base scotch non prendiamo il capo ma appiccichiamo i due lembi a questo punto sappiamo quanto grande verrà il nostro alberello di circonferenza e su questo dovremo basare la nostra costruzione a questo punto dobbiamo creare il corpo del nostro albero io ho qua dei pezzi di cartone abbastanza lunghi sono circa un metro e venti i miei pezzi di cartone ma non vi preoccupate potreste averlo anche più piccolo e non ci farebbe assolutamente niente prendiamo dal nostro cartone dei pezzi appunto che siano sempre larghi undici centimetri quindi io cosa faccio alla base segno con un pennarello undici undici essendo partita da qui proseguo anche più avanti mi segno sempre undici undici e vario ancora avanti e faccio undici undici e ancora avanti in modo da avere delle belle linee dritte da tracciare così che anche se non sono drittissime ragazzi non ci fa niente ve lo dico molto molto chiaramente non ci fa assolutamente nulla ne faccio una insieme a voi poi voi dovrete farne di ognuna di queste una per ogni rettangolino della base quindi abbiamo detto una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici di queste strisce e la striscia alla fine deve essere lunga tanto quanto vogliamo che sia lungo l'alberello quindi nel mio caso non mi basterà solo questo cartone ne prenderò anche un altro da cui traccerò anche qui i miei bellissimi undici centimetri taglio questo e taglio anche quello grande che avevo fatto prima io sto facendo di un metro e mezzo il mio alberello quindi libero anche questa linea qui e di queste strisce da un metro e mezzo dovrò farne ben undici e uniamo con dello scotch non di carta dello scotch da imballaggio voilà facciamo fare un bel giro anche due giri adesso abbiamo una striscia lunghissima ok cosa dobbiamo fare dobbiamo prendere il centro di uno delle due di una delle due estremità misurarlo quindi abbiamo detto che era undici quindi il centro non potrà essere altro che cinque e mezzo ok e fare in modo che piano piano si arrivi alla base con una sorta di triangolo che scenda dolcemente ora come faccio a calcolare un triangolo prendo dello scotch carta lo appiccico al vertice così e lo tiro giù fino ad arrivare alla base e ci creerà il lato del triangolo un lato del triangolo è bello che segnato così allora cosa faccio prendo il pennarello e ripasso nella parte esterna dello scotch questo scotch potrebbe bastarmi per tutte le strisce non è che stacco e attacco scotch e lo butto faccio semplicemente questa cosa su tutte le strisce poi noi taglieremo lasciando la parte colorata e togliendo proprio al margine della parte non colorata ora vi faccio vedere fatto da questo lato prendiamo la nostra striscia di scotch la spostiamo dall'altra parte e voilà passiamo il pennarello togliamo lo scotch carta come vedete io ho ricalcato tutti i miei triangolini su una lastra di cartone mettendo appunto sopra il triangolo primario e adesso mi accingo a ritagliare ad una ad una tutte le fette di triangolo tutte le fette del mio albero direi e allora ci vediamo a triangolini tutti ritagliati dopo aver tagliato tutti i nostri spicchi per farli stare ben dritti e non farli afflusciare su se stessi perché comunque sono morbidi essendo di cartone prendo degli spiedi io li ho belli lunghi ma se li avete più piccoli non ci fa niente basta usarne qualcuno di più e con un po' di colla a caldo vedete metto al centro la colla e attacco molto velocemente senza bruciarci eh ragazzi il mio spiedo a rendere assolutamente dritti e rigidi quantomeno non troppo flessibili diciamo così i nostri spiedi per far sì che questo avvenga meglio faccio in modo che quello di sotto vada un po' più su di quello di sopra vedete qui che ci sia un punto in cui i due si tocchino e poi voilà vado di colla a caldo e adesso il mio spicchio è bello e dritto voilà faccio tutti gli spicchi con questa tecnica bene ho ripreso il cerchio della base vi avevo detto che lo avrei fatto di undici spicchi invece no lo farò di nove spicchi perché ho preso la misura del mobile in cui devo mettere l'albero è di undici spicchi proprio non c'entra quindi uno due tre quattro cinque sei sette otto e nove e taglio qua poi quindi di nuovo vado a prendere lo scotch perfetto diciamo perfetto bene prendiamo due spicchi del nostro albero due qualunque accostiamoli in maniera che messi accanto siano belli vicini e dall'interno con lo scotch carta leghiamoli così uno facciamo come dei punti di sutura due incolliamo e sigilliamo ma sigilliamo lo scotch non i lati i margini dell'albello che invece devono rimanere assolutamente liberi a uno a uno accostiamo tutti i triangolini facendo in modo che i lati che appiccicheremo siano sempre quelli con lo stecco quindi tutti gli stecchi uno accanto all'altro continuiamo ora mi aspetto uno di quei commenti felici che recita così con tutto il macello che hai fatto facevi prima comprarne uno pronto lo so non l'ho voluto fare con uno pronto non facevo un video per il canale e soprattutto non avevo qualcosa di unico che mi aiutasse a trascorrere dei pome di giglietti che parlasse di me all'interno della mia casa certo con lo stesso prezzo dei cinesi sicuramente con molta meno fatica dai cinesi qualcosa da trovare parlando sempre di cose locose abbiamo quasi completato la parte strutturale cosa dobbiamo fare dobbiamo unire gli ultimi due cioè il primo e l'ultimo che abbiamo messo dobbiamo fare in modo che vengano ad unirsi anche loro questi saranno gli unici due che saranno uniti dall'esterno e saranno quelli che più di tutti avranno bisogno di un arrangiamento dal punto di vista del taglio perché tutti i nodi verranno al pettine su questi due sticchi cioè tutte le imperfezioni dei tagli precedenti sarà qua che poi si incontreranno quindi armiamoci di pazienza mettiamo vicini così è uno due alla fine tiriamo su il nostro albero e apriamolo a terra per vedere se c'è tutto adesso prendiamo un pezzo di cartone è il nostro ciambellone fatto all'inizio del nostro bellissimo lavoro mettiamo della colla su un bordo così e incolliamo adesso un margine ok facciamo in modo che si incolli ben bene poi facciamo in modo siccome sono nove sono dispari che dall'altra parte si incolli esattamente l'angolo tra due quindi uno e metto qui e uno e lascio asciugare ok stiamo costruendo la base del nostro albero e poi fisso tutti gli altri lati in modo che non si muovano più una volta che è ben preso ed asciutto eliminiamo l'eccesso semplicemente tagliando anche se non è perfetto non ci fa niente l'ho ripetuto tante volte vero adesso prendiamo il nostro albero e lato per lato infiliamolo infiliamolo all'interno di questa forma sarà difficilissimo ma sono sicura che ce la farete voilà fatto voi non ci crederete ma già è pronto ora tocca solo foderarlo voi direte e qui e qui ora lo incolliamo appiccichiamo le nostre faccette sulla base in fondo così adesso prendiamo della colla vinilica e un pennello e passiamo passiamo la colla su tutta la superficie del nostro cono così proprio su tutto non la diluisco perché non voglio far prendere troppo di umido il mio cartone quindi la passo bella densa però la stendo tantissimo quindi prendo della carta pacchi e l'attacco sulla superficie dello scheletro del mio albero così e ricopro di nuovo con un po' di colla non tantissima non deve venire bagnato deve venire però tutto coperto così i fogli ora scusate la ripresa ballerina ma voglio farvi vedere tutta l'altezza del cono e allora vedete un po' dietro le quinte voilà vedete tutta l'altezza adesso mettiamoci qui e vediamo cosa ci serve ci occorreranno delle strisce di carta pacchi delle strisce come queste che io ho semplicemente ritagliato da della carta pacchi semplicissima come questa che per fare prima ho piegato su se stessa così ho messo in pari così e poi ho semplicemente tagliato tagliato non prendendo neanche la misura andando assolutamente ad occhio per quanto desidero spessa la mia carta poi se in qualche punto viene più spessa e in qualche altro punto meno spessa poco importa vedete e così faccio tutte le mie strisce di carta e comincio a piegarla in questa maniera facendo 1 e 2 1 e 2 senza essere particolarmente ordinati farò qualche piega più larga qualche piega più stretta così ma non schiaccio i margini lascio tutto molto morbido carta permettendo così vedete voilà viene fuori questo groviglio di carta che metto in pari sul retro dopodiché colla a caldo su un pezzettino e attacco alla bene e meglio sul mio albero così stando attenta a non bruciarmi quello che avremo sarà questo tipo di situazione ok bella fissa frastagliata ma nello stesso morbida proseguiamo quindi a piegare la carta così senza dare una forma ma variando l'ampiezza delle volute voilà questo darà maggiore movimento poi mettiamo bene in pari mettiamo la colla voilà e appoggiamo dove ci sembra più opportuno la nostra carta visto che bello viene tutto un albero pieno di ruche di carta attacco l'ultima ruche con voi e ci rivediamo quando ho completato il tutto voilà perfetto e dopo sbagliare variate ore esattamente otto e mezza circa si ci vuole un bel po per fare tutto questo ho finito di montare tutto il mio alberello prendiamo una bomboletta spray mettiamoci all'aperto e accarezziamo con questo spray tutta la parte esterna del nostro alberello che vi faccio vedere in tutto il suo splendore in tutta la sua altezza voilà visto che bello bene spostiamoci all'esterno e facciamo questo passaggio arrivati a questo punto albero finito e anche di passato con dei tocchi dorati quasi impercettibili ma vi assicuro che dal vivo si vedono il dorato sulla carta pacchi non risalta moltissimo ma da quel tocco di eleganza aggiungiamo le luci io ho scelto delle catenelle con delle foglioline dorate e comincio a posizionarle dal basso verso l'alto ora come posizionarle non lo so ancora lo decido insieme a voi perché effettivamente non mi sono fatta proprio un'idea di come siano meglio sull'albero cominciamo magari vediamo proprio partiamo da qui e non faccio altro che inserire così in maniera anche un po' disordinata all'interno del mio alberello le lucine è incastro diciamo così le lucine nelle pieghe della carta e alla fine di tanto lavoro quello che abbiamo è questo si devo sistemare quel piano di lucine e quel piano di lucine per il resto mi piace manca la stella per che adesso andiamo a fare subito a questo punto dobbiamo creare la nostra stella per farla io userò del cartoncino come questo e prenderò un pennarello per farvi vedere bene la traccia da seguire ricavo la parte centrale naturalmente tutto questo e lo sto facendo a mano libera addolcisco i margini nel frattempo attaccato la colla a caldo preparato la vinavil e ho preso i glitter allora ritaglio la mia stellina una volta fatta la prima ne faccio altre due sempre su cartoncini della stessa nella stessa tipologia arrivati a questo punto dividiamo a metà la stella e qui ci rendiamo conto se l'abbiamo fatta dritta oppure no e naturalmente le mie stelle così le stelle non sono mai dritte mai dire così no e dritte dritta guardate basta partire da qui e arrivare qui tac ed è subito dritta la mia prima stella e attacco con la colla a caldo così in obliquo gli altri due pezzi così allora guardia facciamolo insieme reggerò le stelle per voi finché non saranno totalmente asciutte a questo punto prendo la nostra stella spennelliamo la tutta di colla vinilica e rivestiamola completamente di glitter potete farlo tutto contemporaneamente o farlo sezione per sezione dipende da come preferite voi se siete più o meno ordinati nel fare la cosa secondo voi io come farò scommetto che pensavate la facessi tutta assieme e invece no vi stupisco questa volta faccio anch'io la brava e la faccio a poco a poco e sapete perché perché qui ho poco glitter non sono al campo base e vado ok glitterato tutto il primo lato metto da parte rimetto il mio glitter nella boccettina e ricomincio l'operazione per dorare tutti i lati della stella e dopo tanto arrotolare piegare appiccicare glitterare siamo arrivati alla fine del nostro lavoro mettiamo il puntale questo puntale non si infila in nessuna escrescenza dell'albero ma si mette un po di colla a caldo sulle puntine e molto velocemente si fissa è pronto lo messo al suo posto attacco le luci e ve lo faccio vedere in tutto il suo splendore quello qui il nostro alberello in tutto il suo splendore purtroppo non riesco a farvi vedere un'inquadratura orizzontale per intero perché è venuto altissimo ma adesso vi faccio le foto e ve lo faccio vedere in tutto il suo svettare nataloso ci vediamo dopo le foto ciao finalmente iniziate il natale visto che bello il nostro albero di natale è fatto con materiali semplici nobilitati creiamo qualcosa di bello con pochi soldi costa veramente pochi soldi quindi per un natale unico e speciale create anche voi in un giorno basta un giorno per farlo il nostro albero di arte per te vi ricordo di seguirmi su tutti i miei social facebook instagram tik tok naturalmente qui su youtube non soltanto su arte per te ma anche sul mio canale ombretta e sul mio canale due cuore una k dove ci sono sono custodite anche se non sto pubblicando più molto spesso all'interno di due cuore una k c'è la playlist piatti delle feste che è piena zeppa di piatti buonissimi da preparare in questo periodo oltre a panettoni pandori tutto quello che volete lì c'è per il vostro natale goloso qui per il vostro natale creativo e su ombretta per il vostro natale fashion e allora non mi rimane che salutarvi darvi appuntamento al prossimo video e buona preparazione al natale a tutti buon periodo dell'avvento un grande bacio a tutti voi alle vostre famiglie vivete questo periodo in assoluta felicità e armonia da ombretta ed arte per te è tutto alla prossima volta ciao ciao